Weee! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIODER e ragazzi, come ogni giorno, in tempo reale, il Fortbyte, quello di oggi, ci chiede di utilizzare l'emote complimentoni all'interno di un ristorante. In questo caso ragazzi, si tratta proprio del ristorante a grandi magazzini. La posizione ve la faccio vedere subito, l'emoji complimentoni, non è altro che il logo del DURBURGER. Vediamo se riusciamo ad evitare di essere chillati, ma dai, ma lasciami stare che sto prendendo il coso! Ma perché io devo sempre avere la gente che ce l'ha con me? E qua ragazzi, eh! Un secondo, dobbiamo riuscire a raggiungere... le cucine. Che sono sopra, credo. La situazione si complica? È sopra qua, raga. È qua! È qua il Fortbyte! Eccolo! Eccolo ragazzi, il Fortbyte è qua! Qua! Comunque qua ragazzi! Questo ragazzi è il Fortbyte numero 59, si utilizza proprio dove ci sono le cucine, le emoji del DURBURGER, e lo potete prendere. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, un bel pollicione in su, noi ci vediamo tra poco in live! Ciao! 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 Ciao!